Siamo a Vicenza, Fiera Pescara Show 2018. All'Utecnos presenta una novità mondiale con il suo 22 velocità. Stiamo parlando di una velocità veloce di 6,5 a 1, mentre la velocità più lenta un 3,4 a 1. Ovviamente trattandosi della serie Gorilla abbiamo una leva molto lunga, un'impugnatura ergonomica e una doppia frizione con un max drag di 45 libri. Il prodotto è nelle varie colorazioni, nero, silver, blu, rosso e verde e nelle varie combinazioni di colori. Oltre ai murinelli quest'anno presentiamo anche una nuova serie di canne, la serie di canne Gorilla, nei libraggi 6-12, 12-20 e 20-30. È montata con anelli fusi, ha un'azione prevalentemente di punta ed è tutta un petto. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito dove potete anche acquistare il prodotto www.alutecnos.it www.alutecnos.it